Comunque qualcuno dice che da quattro persone, c'è qualcuno che sta mandando a te, c'è qualcuno che è in disipirata azione, loro riconoscono, ma non ci sono. Una mano per alzarlo, una mano per alzarlo, anche quattro. Allora, lui è il palazzo, lui lo mettiamo su più chiara qua, lo mettiamo su più chiara qua.